Era stato accusato di inquinamento nel 2011, la condanna in primo grado. Stefano Svegliado, presidente del Consiglio di Gestione di Etra, è stato definitivamente assolto perché il fatto non costituisce reato. I problemi erano iniziati a seguito di uno scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflu urbane di Cadoneghe nel fiume Brenta, in cui si era registrato il superamento del parametro di Zinco fissato per legge. Una violazione di livelli scoperta da controlli a campione dell'ARPAV. La difesa aveva sostenuto che Svegliado non aveva alcuna colpa perché lo sforamento si era verificato solo due volte. La prima per un problema nel campionatore automatico che si era guastato, fatto questo, che aveva comportato l'assoluzione del presidente del Consiglio di Gestione. La seconda a seguito di un temporale eccezionale dopo giorni di siccità che ha causato l'aumento di reflui nel depuratore con alta concentrazione di Zinco. Essendo che il depuratore di Cadoneghe serve pochissimi scarichi industriali, coprendo 200 chilometri di fognature, il giurice ha pronunciato sentenza di assoluzione, quindi per Svegliado nessuna colpa.